Vai, vai, vai! Forza, muoviti! Forza con quelle dita, dai! Ora i tiri, forza! E ora che ti sei allenato, passiamo alla tattica di gioco. Se usi il touchscreen, sarai più preciso nei passaggi e nei calci piazzati. Con il retro touch, potrai tirare durante le azioni di gioco. E adesso sì, che sei pronto per scendere in campo. Oggi PlayStation Vita e FIFA Football insieme per un'offerta da urlo.